Buongiorno a tutti, ci troviamo ancora al Trocadero 520, locale che ci ospita per le nostre interviste, le interviste ai nostri membri, i membri che hanno partecipato al concorsone Lemine News 2020, ringraziamo le titolari Lara e Tania, siamo in compagnia oggi di Valentina, un membro storico di Lemine News, storico però voglio ricordare che Lemine News è nata solamente due anni fa, diciamo storico perché ha avuto una crescita esponenziale in questi due anni, Valentina ti sei iscritta, io ho fatto delle ricerche il 4 luglio 2018, hai partecipato al nostro concorsone, mi hai detto che hai messo il numero che corrispondeva alla tua mamma e hai vinto il primo premio. Sì, piacere a tutti, sono Valentina Rotasabelli, sono nata, cresciuta dal Meno San Salvatore, un paio di anni fa mi sono trasferita sempre in zona Barzana, mi sono iscritta a questo gruppo per rimanere sempre informata sulle notizie di Almenno dove comunque vivono ancora i miei genitori, mia nonna e anche dei paesi limitrofi. E ti faccio una domanda tra bocchetto, cosa ne pensi di Lemine News? Allora, Lemine News mi piace perché su questa piattaforma, chiamiamola social, gruppo, si trovano le informazioni di vari paesi, dalla viabilità, dalle condizioni meteo del tempo, dalla storia del paese, che comunque tante volte, anch'io che comunque sono nata, cresciuta qua, ho fatto le scuole qua, magari non ricordavo. Quindi consiglieresti? Di iscriversi per essere aggiornati un po' sulla vita di oggi e sulla vita di ieri. Ti ringraziamo Valentina, ti ringraziamo anche per la tua testimonianza e ti consegniamo il primo premio che ricordo è una boccetta di profumo della Christian Dior, Giador, di 100 ml, vincitrice del primo premio del concorsone 2020 di Lemine News. Mi raccomando anche voi iscrivetevi a Lemine News, fate iscrivere a Lemine News. Se volete avere e continuare ad essere informati a 360 gradi sulle novità del territorio, del grande Lemine e della Valle in Magna e se volete ovviamente partecipare alle nostre iniziative future. Valentina, ecco a te. Grazie mille. Grazie per averci ascoltato, arrivederci alla prossima puntata. Ciao.